Musica Benvenuti a puntamento con l'Ottigi 10. Anche Gela si è mobilitata oggi in occasione del 25 novembre, data scelta nel 1999 dalle Nazioni Unite come giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne nella quale si ricorda l'assassinio delle tre sorelle Miraballa venuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana. Nell'auditorium del liceo scientifico Elio Vittorini a Piano Notaro si svolta la conferenza dal titolo insieme possiamo dire basta la violenza sulle donne, se non vuoi perdere la tua dignità non toccare la mia. L'incontro è stato organizzato dalla FIDAPA, dalla INRWIL e dalla Soroptimist Sezioni di Gela con il patrocinio del Comune. Giornata internazionale sulla violenza contro le donne è un evento importante per sensibilizzare e sensibilizzare a volte non è mai abbastanza. Sicuramente, i nostri studenti hanno necessità come tutti i ragazzi del mondo ad essere inquadrati in un certo modo soprattutto a far sì che gli obiettivi che sono quelli più educativi e formativi che meramente contenutistici e quindi didattici diventano veri valori. Quindi i ragazzi devono seguire ciò che purtroppo spesso non viene abbastanza ripetuto quindi educazione e rispetto per gli altri. Negli anni abbiamo attivato per esempio l'aula d'ascolto protetto presso il Tribunale di Gela abbiamo pubblicizzato lo sportello antiviolenza con il numero verde il 1522 abbiamo fatto dei corsi già con gli studenti in modo che la violenza non trovi più terreno fertile per manifestarsi. La donna e l'uomo devono avere pari dignità e devono camminare mano nella mano e non è più tempo di alibi alibi da parte di tutti perché io prendendo sfunto dalla convenzione di Istanbul le tre P, prevenzione, protezione, punizione per chi fa questo. Qual è l'approccio di una donna, l'approccio corretto di una donna in una situazione in cui subisce violenza dal proprio compagno? La cosa più semplice, anche se molto complicato, è riconoscersi come vittima e riconoscere il proprio partner come aggressore solo questa è l'unica modalità di consapevolezza e di fuoriuscire anche se questa non è facile perché la donna si trova ingabbiata dentro questo sistema da vittima però quello che dobbiamo andare sempre alla ricerca è della motivazione e le cause perché la donna non riesce quindi occorre all'aiuto dell'altro e la stessa cosa è per l'aggressore e quindi il proprio partner è il carnefice perché paradossalmente l'aggressività diventa il collante della propria relazione e questa è la cosa triste ma inconsapevole di tutte e due della coppia. E all'incontro di oggi erano presenti anche il procuratore capo della Repubblica Lucia Lotti il sindaco di Gela, Angelo Fasulo e l'assessore comunale all'istruzione Giovanna Cassarà. Incontrare gli studenti e sensibilizzarli alla parità di genere è sempre un tassello molto importante affinché non accada mai più. Certo la violenza contro le donne è un fenomeno che è fortemente in espansione in tutto il mondo la cronaca ce lo dice ogni giorno ma bisogna partire dai giovani. Bisogna partire dai giovani con fiducia, io ho grande fiducia nei giovani, loro sono esposti purtroppo a un contesto, a un mondo che spesso è confuso, che non riesce a identificare valori, obblighi, responsabilità però io ho fiducia in loro, ci dobbiamo mettere nelle loro mani. E' chiaro che il ragionamento sulla violenza, che è una violenza che non riguarda solo le donne ma sulla violenza in genere, deve essere un ragionamento collettivo da fare tutti insieme ma loro debbono portare il testimone dei valori. I tempi sono cambiati ma oggi più che mai forse è significativo parlare e condividere aspetti e proposte. Devo dire che il momento oggi porta a un impegno di tante associazioni, dei giovani, della società intera accanto alle istituzioni, per questo oggi parleremo dello sportello antiviolenza che il Comune ha già istituito e che ha trovato un finanziamento della Comunità Europea ma parleremo soprattutto della grande attività e dell'importanza che ha oggi considerare veramente lesivo dell'immagine di tutti della nostra vita e della nostra dignità, la violenza contro le donne. Educare alla parità di genere significa educare ad una cultura fatta di eguaglianza sociale, una cultura che comporta il rispetto del genere e quindi un po' anche noi come in tutte le parti d'Italia cercheremo di promuovere delle manifestazioni all'insegna della parità e del rispetto della persona. Si chiama negli occhi delle donne il piano di lavoro promosso dall'associazione Progetto H di Gela in collaborazione con numerosi club service locali. Vediamo. L'associazione Progetto H d'anni impegnata nel sociale con particolare attenzione all'integrazione sociale dei più deboli e all'abbattimento delle barriere siano esse architettoniche che sociali più volte nel corso degli ultimi anni ha affrontato temi molto impegnativi e di difficile trattazione considerato il contesto sociale in cui viviamo. Quest'anno oltre alle attività di routine si intende focalizzare l'attenzione sulle problematiche legate al mondo femminile ma con un occhio critico proprio da parte delle donne. A tal proposito è stato creato un gruppo spontaneo di lavoro formato da donne ma anche da uomini di diversa estrazione culturale che hanno accettato di buon grado di essere coinvolti nel progetto che vuole essere diverso sia come evento culturale ma soprattutto per i messaggi che intende trasmettere ed hanno dato vita al progetto denominato Negli occhi delle donne. Riteniamo che anche il disagio femminile sia un elemento da attenzionare molto importante specie in questo momento storico in cui si parla tanto di femminicidio proprio perché non c'è presa di coscienza da parte della donna di se stessa e quindi abbiamo pensato di portare avanti questo progetto in collaborazione con il Rotary Club di Gela con la FIDAPA, con il MOVI, con la Casa del Volontariato e siamo sostenuti in questo dal CESVOP che è sempre molto disponibile a dare una mano alle attività che fa l'associazione del progetto H. La FIDAPA ha già partecipato a numerose iniziative anche lo scorso anno insieme alle scuole elementari ha messo in atto un progetto molto capillare che ha dato vita a questo progetto che riguarda la differenza di genere e il rispetto dell'identità femminile all'interno delle scuole elementari. Continua quindi con questo progetto e fa sentire la propria voce, partecipa attivamente alla campagna di sensibilizzazione nei confronti del mondo femminile. Noi abbiamo voluto proprio considerare molteplici aspetti dell'animo femminile infatti le tematiche che saranno affrontate via via sono veramente diverse alcune tra l'altro mai affrontate prima proprio perché la complessità dell'animo femminile è tale che merita di essere conosciuto a fondo a volte penso che neanche noi donne ci conosciamo veramente e quindi la conoscenza di sé innanzitutto e la conoscenza del mondo femminile porta inevitabilmente anche a far presente determinate dinamiche. Cambiamo d'argomento, c'è un'altra indagine che interessa il Comune di Gela non travela alcuna notizia nel merito al momento ma è il dato oggettivo che questa mattina militari della guardia di finanza della locale compagnia su ordine della procura di Caltanissetta si sono regati al palazzo di città per acquisire documenti che riguardano l'attività della pubblica amministrazione. Ultimamente magistratura e forze dell'ordine hanno acceso i riflettori sul Comune Gelaese e di alcuni giorni addietro le indagini che riguardano la residenza sanitaria assistita a capo soprano e l'affidamento del servizio di sosta a pagamento e dei parcheggi multipiano gestiti dalla Blue Line Service SRL. In barba alle disposizioni imposte dalla magistratura che lo obbligavano ai domiciliari se ne stava fuori dalla propria abitazione sorpreso dai carabinieri è stato arrestato e tradotto nel carcere di Gela. La protagonista della vicenda è il niscemese Vincenzo Seita, 68 anni che vedete nella foto. L'uomo due giorni addietro era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per violenza privata in concorso, altri reati in materia ambientale e di inosservanza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. I residenti del quartiere di Setteverine a Gela chiedono di collocare una rotatoria all'incrocio tra via Venezia e via Tevere e teatro martedì scorso di un mortale incidente stradale. Dopo la tragica scomparsa del giovane Salvatore Scerra, 17 anni, morto a seguito di un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Tevere e via Venezia, una settimana addietro insorgono i residenti del quartiere di Setteverine. È da tempo che chiedono oramai il funzionamento del semaforo perennemente lampeggiante e non solo, chiedono anche la costruzione di una rotatoria al fine di evitare altri gravi sinistri. Abbiamo chiesto sempre all'amministrazione di mettere a vista i problemi di quell'incrocio perché lì quando il semaforo non funziona succedono sempre degli incidenti. Non funziona sempre? Il 99% dell'anno non funziona. Dobbiamo dire che quando il semaforo funziona un incidente non c'è, allora perché non debbono fare una rotonda? Se ci sono problemi per sistemare il semaforo, che facciano una rotonda? Non mi vengono a dire che non si può fare. L'hanno fatta in 6 metri quadrati di strada, scavone l'hanno fatta alla rotonda. Perché non devono farla? Pure per il quartiere Setteverine. I residenti del quartiere sono al fianco della famiglia Scerra e lo saranno anche in un procedimento giudiziario nel caso in cui si dovessero riscontrare indizi di colpevolezza che hanno portato al decesso del ragazzo. Il quartiere si costituisce parte civile. A Setteverine c'è anche un pericolo costante, si chiama cavalcavia. Abbiamo un passaggio petonale sul cavalcavia che sono anni che c'è un cartello, attendo a non calpestare le aviole, ma si scherza, si mette un passaggio petonale non in sicurezza e poi si avvisa la gente di stare attento a camminarci sopra. Questa è l'amministrazione che deve gestire un quartiere e una città. È prevista per venerdì 28 novembre prossimo alle 17 l'inaugurazione del corso serale dell'Istituto Alberghiero di Gela diretto da Grazio Di Bartolo. Invece si darà sabato 29 e domenica 30 novembre prossimo in piazza Umberto I a Gela l'iniziativa promossa dall'Admo Un panettone per la vita nei gazebo e nei desk dell'associazione Donatori Midollo OSEO allestiti per l'occasione. Sarà possibile chiarire dubbi e ricevere tutte le informazioni necessarie per diventare donatori. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Sono tre le donazioni di sangue promosse dalla sezione gelese dell'Adas, preseduta da Felice Damaggio. Si trarranno domenica 30 novembre nei locali del poliambulatorio ASP2 di Via Roma a Mazzarino e lunedì 1 e venerdì 5 dicembre nel centro di raccolta fisso di Via degli Appennini 5 a Gela. Noi adesso ci fermiamo, diamo la linea alla regia per la pubblicità. Eccoci in seconda parte del telegiornale, ritorniamo nuovamente nel quartiere Setteverine di Gela dove i residenti chiedono un intervento immediato da parte delle istituzioni perché si sentono abbandonati. Un invito all'amministrazione comunale di Gela, un accurato appello al fine di intervenire in maniera assai decisa nel quartiere di Setteverine, abbandonato a se stesso. Lo rivolgono i residenti della zona, qui dicono siamo dimenticati. Ci sono l'albero di palma da aggiustare, che schifo che c'è, la terra e nell'aria, dopo le banchine, le strade, la fogna, l'acqua, siamo abbandonati da tutti. Non c'è un campo sportivo, una palestra, non c'è niente. C'è la chiesa, come se non ci fosse, la chiesa è abbandonata da tutti. Sulla raccolta differenziata dei rifiuti si era partiti bene, adesso invece la situazione non è delle migliori. Funzionava prima, ma ora non hanno dato né sacchette né cose. Io addirittura stavo via a Pisano, che addirittura c'era un fossa, che io faccio quattro richieste quando paro il buco, che ci va la macchina dentro. Prima mi dicono che non aveva fatto richiesta, poi sono andato all'ufficio della manutenzione e mi hanno detto, dice, ma il risultato è stato, come il risultato? E mi hanno detto, perché dopo che uno ha fatto richiesta. Ho fatto la richiesta e mi ha detto, portaci questo numero che l'hai fatto richiesta. Ho fatto la richiesta. Ci va e dice, vabbè, dice, vediamo se è il risultato. Risultato, dice, ma il comune non sordonnava, dice. Nella zona, dicono i residenti, è quasi all'ordine del giorno, la presenza di insetti, ratti ed altro ancora. Come sentono le sette farine? Ci sono le scolzioni lunghe che vanno camminando, non mi sono i fulcetti, come farina con i fulcetti? Ce l'hanno mandato a rosinico. Qua sono tutti in abbandono assoluto, poi succede negli incidenti, poi credono, perché la cazzo fa delle cose che non le devono fare. Siamo in abbandono assoluto, questo è il problema del sette farine. Continuano gli appuntamenti con la stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Giovani Musicisti con il patrocinio della Regione Sicilia, del Museo archeologico regionale del Comune di Gela. Sabato 29 novembre alle 19, nei locali del Museo, è previsto il concerto del duo Massimo Martinez alla chitarra e Guglielmo Sgarlata al pianoforte, il direttore artistico della manifestazione e il maestro crocifisso Ragona. La pagina dello sport, il calcio, una vera e propria rivoluzione nel Gela Calcio. Dopo l'inaspettata sconfitta di domenica scorsa in casa con la Santa Croce, otto giocatori sono stati congedati dalla dirigenza capitanata dal presidente Angelo Tuccio. Tra loro ci sarebbero, ma manca ancora l'ufficialità, Davide Ancia, Ottavio Nicotra, Coffi e Domenico Cannizzaro, oltre che alcuni giovani juniores. Il presidente del club biancazzurro, che vedete nelle immagini, intervenuto ieri nel corso della trasmissione radiofonica Bar Sport di Bella FM, è stato molto chiaro, stiamo anticipando oggi la strategia di mercato che avremmo dovuto portare a compimento tra sei mesi. Non posso permettere che la squadra, che rappresenta la storia calcistica di Gela, possa galleggiare nel campionato di promozione. Non lasceremo che la Leonzio vinca facilmente il torneo, renderemo loro l'impresa difficile. Se poi vinceranno, sarò io il primo a congratularmi, ma il 25 novembre non posso permettere che i miei giocatori o qualcuno pensi che sia finito il campionato. Sono deluso, ha aggiunto Tuccio, era giusto dare fiducia ad un gruppo che aveva vinto tutto lo scorso anno. Abbiamo forse fatto degli errori, ma proveremo a riparare. Può anche succedere che sbaglieremo ancora di più e rovineremo tutto, ma non posso permettere che la Santa Croce vinca così contro di noi, con tutto rispetto per i ragusani. I nostri tifosi, la nostra storia non ce lo consentono. Voglio la Serie D in tre anni. Lo ribadisco, ha chiuso Tuccio, sarà difficile, ma abbiamo il dovere di provarci. Poi ad aprile tireremo le somme. Intanto l'attre di Gogela ha presentato ricorso alla Lega per errore tecnico dell'arbitro in merito alla gara di domenica scorsa persa contro la capolista Sicura Leonzio per 2 a 1. Noi quest'oggi abbiamo ascoltato il pensiero del presidente Cristian Paradiso. Cristian Paradiso brucia e come la sconfitta rimediata Lentini contro la Sicura Leonzio. Una partita giocata a viso aperto dalla sua squadra. Poi, proprio in zona Cesarini, è giunto il gol a bianconero. Fortemente contestato e voi già avete presentato ricorso alla Lega. Se dobbiamo dire le cose per come stanno, non è stata una colpa nostra perdere la partita. Noi abbiamo giocato il nostro calcio tranquillo, sereno. Abbiamo dimostrato anche alla Leonzio di essere molto più superiori a loro. E certamente gli errori tecnici dell'arbitro ci sono stati sui due gol. Perché due gol inventati, due gol che comunque non c'erano. E l'arbitro si è inventato questi gol. In ogni caso noi abbiamo presentato ricorso alla Lega entro le 24 ore. Speriamo che la Lega l'accetta, altrimenti è andata così. Ricorso per rigiocare la partita e ricorso su quale basi si fonda? No, certamente ricorso su un errore tecnico dell'arbitro e per poter giocare la partita. Una sconfitta però è chiaro che è maturata, come sottolineavamo, per delle decisioni che voi avete definito cervellotiche da parte del direttore di gara. Ma giustamente le sconfitte, almeno per come la penso io, vanno messe in gambo. In gambo nel senso con le cose giuste. Se uno merita di perdere, è giusto che deve perdere. Però l'arbitro si è inventato questo carcio di punizione, si è inventato l'altro carcio d'angolo per cui hanno segnato il 2-1. Non lo so il perché. I miei giocatori al secondo gol erano già ripartiti. Sono arrivati al centro campo, lui dopo due minuti fischia e va a far ribattere un carcio di punizione che comunque è inesistente. Voi vi sentite derubati? Avete detto a chi era lettere a fine partita che oramai è deciso che il campionato lo vincerà proprio la Sicurale Onze. Ma sicuramente è logico derubati perché alla fine quando noi meritiamo di perdere è giusto che noi meritiamo di perdere. Alla fine quando noi siamo stati a giocare a Pachino abbiamo fatto una partita male, però giustamente in qualche modo i ragazzi con la loro sintonia mentale hanno portato un punto a casa. Ma lì ci può stare. Ma andare a perdere alle Onze, quando noi dominiamo, questo è un fatto un pochettino brutto. Parliamo di calcio giocato, domani si ritorna in campo, c'è la Coppa Etaria a frontale del Santa Croce, è chiaro che l'obiettivo è andare avanti? Sicuramente, già partiamo, penso che partiamo con un risultato importante, l'1-1 che è fatto a Santa Croce per noi è un minimo netto vantaggio che ci portiamo qua dentro casa. Dentro casa siamo a casa nostra, ce la giochiamo tranquilli, sereni, speriamo che comunque possiamo passare il turno. La pagina dello spettacolo è Confusi e felici, il film in programmazione al Cineteatro Antitoto di Machidella Gela, sono due gli orari di proiezione, 19.30 e 21.30. E da domani al Cineteatro Antitoto parte la stagione teatrale, primo appuntamento con l'amico di papà, la brillante commedia di Edoardo Scarpetta. Ricordiamo che l'abbonamento intero ha un costo di 70 euro, 55 euro ridotto per i giovani. Il biglietto singolo di ogni spettacolo è di 12 euro, intero ridotto 8 euro. Gli spettacoli sono previsti domani alle 21.30 e il giovedì alle 18 e alle 21.30. Noi abbiamo concluso, vi ricordo che subito dopo la sigla di questa edizione del Tre Giornale andrà in onda lo spazio istituzionale a cura del Comune di Gela. Grazie e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.